Siamo all'Istituto Tecnico Antonio Pacinotti, un istituto tecnico molto conosciuto in un recente passato, che aveva conosciuto un calo negli ultimi tempi, ma le buone nuove ci sono sempre. Abbiamo chiuso con un numero record di iscrizioni, ad oggi abbiamo 250 iscritti, sono ben 100 in più rispetto allo scorso anno. Questa è una gioia. Sicuramente, vuol dire che abbiamo lavorato veramente bene, ho un team veramente di tutto riguardo, che si è speso veramente in ogni senso e ha portato a casa i risultati effettivamente. È un istituto tecnico industriale, ha vari indirizzi, ha l'indirizzo elettronico e elettrotecnico, meccanica e meccatronica, informatica e telecomunicazioni. A partire da questo nuovo anno scolastico abbiamo aggiunto altri due indirizzi, l'indirizzo di logistica e trasporti, con opzione settore ferroviario e poi per quanto riguarda l'elettrotecnico l'opzione elettromedicale. E sono i due indirizzi che sono andati moltissimo quest'anno. Sono tutti indirizzi che portano all'inserimento nel mondo del lavoro, ma sul piano altamente tecnico e specializzato. Sì, sicuramente perché è un tecnico, l'istituto non è un professionale, quindi chiaramente al di là delle competenze specifiche ci sono anche delle conoscenze obbligatorie. Allora, la laboratorietà è fondamentale. Abbiamo tanti laboratori in cui i ragazzi hanno modo di sperimentare quello che imparano, però in maniera alternativa, cioè i ragazzi fanno laboratorio, poi dal laboratorio si passa alla teoria, in maniera tale che si riesce a stimolare la curiosità del ragazzo, quindi tutto viene in maniera molto spontanea e il ragazzo che fa domande al docente e dalla pratica il ragazzo apprende determinati concetti, determinate conoscenze che riguardano le varie discipline squisitamente tecniche. Alternanza scuola-lavoro effettivamente è un'attività importantissima, fondamentale nei tecnici. non nasce con la 107 perché il Pacinotti non è estraneo a questo tipo di attività, le ha fatte già negli anni precedenti, solo con la 107 ha avuto una marcia in più chiaramente. Abbiamo fatto delle convenzioni non solo con le aziende del territorio, ma anche con Assoform di Bologna, che copre un poco tutti i nostri indirizzi e darà sicuramente delle competenze specifiche ai ragazzi del nostro istituto. Grazie a tutti.